Siamo con Roberto Peria, l'ex sindaco di Portoferraio. A lui chiediamo quali sono stati gli interventi fatti dalla precedente amministrazione per mettere in sicurezza soprattutto questa zona. Dunque, io intanto vorrei dire una cosa. Io non avrei voluto mai fare questa intervista e non avrei mai voluto fare una polemica su una questione così delicata e non è neanche una polemica questa. Alla fine è un doveroso chiarimento perché sono stato impropriamente tirato in ballo e sono state dette frasi sul mio conto tipo che ho raccontato balle elettorali che purtroppo non corrispondono al modo di operare della mia persona e pertanto per i cittadini di Portoferraio mi sento in dovere di precisare come stanno le cose. Sul carburo noi abbiamo investito con un'opera molto importante che costa più di un milione di euro e che è stata finanziata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ai tempi del governo Berlusconi con fondi duping per le isole minori. Non è stata finanziata integralmente perché i fondi non c'erano per finanziarle integralmente. Allora noi partimmo, facemmo il progetto complessivo, andavano fatti poi le parti esecutive così almeno io mi ricordo, partimmo con un primo lotto che era il rifacimento di tutto il sistema fognario del carburo e di creazione di tutta la struttura, l'infrastruttura fino all'incrocio sostanzialmente con i viali che escono dal porto, compresa la nuova stazione di pompaggio dove devono essere contenuti gli impianti tecnologici che avete visto è un'opera monumentale, estremamente complessa anche a livello civile. Questo primo lotto prevedeva una spesa di circa 700 mila euro, poi ne furono spesi meno di soldi perché ci fu la gara, ovviamente un ribasso da asta abbastanza importante, io mi ricordo questo, le cifre esattamente non le ricordo. I lavori partirono, però prima di questo intervento, che andava ovviamente completato nell'estate con il secondo intervento ed era la parte elettromeccanica e quindi l'idrovola, prima di questo intervento noi abbiamo fatto altri interventi che uniti a questo avrebbero sostanzialmente reso impossibile, se non in condizioni assolutamente drammatiche ed imprevedibili, l'allagamento del carburo. In particolar modo era stato codificato una prassi operativa, tant'è che nel 2012 facevamo un'esercitazione di protezione civile con i cittadini che ci prendevano in giro, con tutti i sacchetti di sabbia messi lato provinciale per evitare che l'acqua trascimasse sul carburo, ma prima ancora nel 2011 avevamo con ASA rifatto totalmente la stazione di pompaggio sulla provinciale, che quando è in sicurezza e funzionante consente alla provinciale di non allagarsi e al carburo di non andare sott'acqua, perché poi va detto questo, che anche quando ci sarà l'impianto funzionante, io spero nel 2015 ormai visto che i tempi sono un po' slittati, quando ci sarà tutto l'impianto funzionante non è che la normalità può essere che la provinciale si allaga e butta un fiume d'acqua sul carburo, il carburo risucchio e lo butta a mare. La provinciale va comunque tenuta sotto controllo e l'impianto di pompaggio va comunque costantemente, quando piove, tenuto sotto controllo. Allora, tutto questo complesso di interventi e di operazioni necessitava, come dicevo, di un ultimo passaggio, che era quello di realizzazione dell'idrovola vera e propria, che comunque si poteva finanziare con l'avanzo d'amministrazione e se serviva qualche decina di migliaia di euro in più con un po' di onere di urbanizzazione o soldi disponibili subito da parte del comune, e Cosetta Pellegrini, se fosse diventata sindaco, sapeva benissimo qual era la procedura, perché l'aveva seguita insieme a noi in giunta, per cui noi avremmo dato continuità ai due cantieri e nella primavera del 2015 sostanzialmente il lavoro sarebbe terminato. Il problema è che, da quello che so io, non hanno neanche dato l'incarico al progettista per poter realizzare il secondo lotto, e quindi chiaramente si è perso questo filo logico, l'opera ha avuto dei ritardi e tutto questo ha generato una criticità sui tempi di realizzazione, ma io non sono più sindaco da sei mesi, non potevo certamente evitare questo, per cui l'attacco alle balle elettorali è una grossa stupidaggine, questo è un progetto serio, è un progetto che va realizzato con una tempistica e mettendoci anche del proprio al livello di risorse, bisogna sostenerlo con forza e determinazione perché c'è di mezzo la vita dei cittadini, ma è un progetto che se avesse avuto un'inter logico si concludeva nel 2015, poi c'è tutto il resto, quello che è successo a livello di potenzione. Perché non ha funzionato? Che cos'è che non ha funzionato? L'impianto intanto non è funzionante, l'opera non è funzionante, addirittura va visto che se per caso ci siano ancora le griglie non collegate, perché io mi raccomandai con i cittadini, gli dissi in campagna elettorale, me lo ricordo benissimo, trovai delle signore e mi telefonavano sempre, e dissi loro a settembre, se vedete che ancora sono in ritardo con i lavori, andate in comune a protestare, perché quantomeno la fognatura deve essere resa operativa e deve ritornare in condizioni di normalità. Poi ovviamente facendo tutte le altre azioni, l'impianto va totalmente in sicurezza, glielo spiegai molto bene, nella primavera del 2015, però già oggi con le stazioni di pompaggio funzionanti e con la fognatura nuova, se le griglie sono collegate, se tutto è fatto e non ci sono istruzioni sulla fognatura, a settembre verificate questo, questa zona è al sicuro. Cosa ci sia ora? Io non lo so francamente, perché non faccio più il sindaco, non seguo più queste problematiche sul territorio, mi tocca seguirle quando sono tirato impropriamente in ballo, però è chiaro che viene il dubbio e qualcosa non abbia funzionato, le cose che di sicuro non hanno funzionato, per chi sono passato lì, diciamo, con la macchina, alle 4 e mezzo, quando ancora non c'era l'evento più drammatico e la provinciale era parzialmente allagata, si vedeva lontano un chilometro e non funzionava la stazione di pompaggio. La stazione di pompaggio va immediatamente rimessa in funzione, perché altrimenti, se non funziona quella, si allaga la provinciale e butta un fiume d'acqua sul carburo e questo non si evita comunque con nessun impianto, perché la provinciale è più in alto e quindi è evidente. Poi l'altra cosa che mi ha colpito, e ho scoperto dopo, l'ho saputo dopo, diciamo, da chi ha operato sul campo, dai volontari, eccetera, che non avevano tolto i tombini al carburo. Di fronte a un evento del genere, la prima cosa che va fatta, vanno tolti i tombini al carburo, perché il fosso dell'infermeria riceve e infatti in 40-50 minuti ha tolto tutta l'acqua. Ma esiste comunque anche in comune un protocollo di protezione civile, un protocollo per sapere come ci si comportano questi frangenti? C'è tutto, ovviamente non è riferito al carburo e basta, è riferito a qualsiasi emergenza idraulica, va bene, fu fatto dopo l'alluvione di campo, è approvato con delibera di giunta comunale, è stato trasmesso a regione, prefettura, provincia e quant'altro, va implementato con un piano organico, eccetera, però intanto tutte le procedure sono codificate. Va aperto immediatamente il centro operativo comunale, va messo in collegamento con quello provinciale, bisogna fare delle azioni di monitoraggio sul campo, chiaramente sono cambiate le figure, sono cambiati i responsabili, però le procedure, e io ritengo, siano sempre quelle approvate con delibera della mia giunta e che potete trovare su internet facilmente. Un'ultima domanda, perché secondo lei non funzionava questa stazione di pompaggio? A chi compete e come parte? Questo non lo posso sapere, si capiva che non funzionava perché alle 4 e mezzo, quando ancora eravamo lontani dal disastro, c'erano i primi segni, diciamo, di acqua sulla provinciale, l'acqua sulla provinciale quando funzionano le pompe non ci sta, perché viene portata via immediatamente dalle bocche di lupo e dalle pompe in azione, quindi evidentemente la fognatura non era in pressione, è esploso tutto e quindi ha riversato un mare di fango sul carburo e è successo quello, è successo. Come allo stadio mi dicono che chi è andato a liberare i tombini non li trovava, perché ormai l'acqua era altissima, ma i tombini vanno aperti immediatamente, dopo 50 minuti l'acqua è defluita, cioè se fossero stati aperti probabilmente tutta l'acqua di Mangana non sarebbe mai arrivata qui, quindi io dico impariamo quantomeno dagli errori fatti per cercare di correggerli e poi non definiamo promesse elettorali quella che è un'opera seria, cerchiamo di portarla a termine, quando sarà a termine vedremo se funziona il nozzo. A chi compete, un'informazione anche nostra, a chi compete l'attuazione del piano, del protocollo di protezione civile, chi è chi lo... Il responsabile della protezione civile e ovviamente il capo della protezione civile è il sindaco, cioè in questo caso ovviamente tocca agli organi tecnici insieme al sindaco e a tutti coloro che partecipano alla gestione dell'emergenza. Grazie.